Continua ad avere un riscontro positivo l'andamento dei casi di coronavirus nei comprensori del Cilento e del Vallo di Diano. Tra i nove contagi registrati ieri in campagna non è presente nessuno legato al nostro territorio, il quale continua la forte ripresa dai momenti bui degli scorsi mesi. Infatti nei laboratori dell'ospedale Ruggi di Salerno sono stati esaminati 198 tamponi, di cui nessuno positivo, mentre anche nei laboratori regionali che svolgono gli esami dei tamponi di screening, tra cui quelli del Vallo di Diano, non sono state evidenziate positività. Agropoli, così come il Cilento, attende le guarigioni degli ultimi tre casi di covid, 29 i casi totali registrati nel centro agropolese, tra cui tre decessi, e restano due casi ancora positivi nel resto del Cilento, a Casalvelino e a San Mauro Labruca, ambe due infermiere del San Luca di Vallo della Lucania in via di guarigione.